Salve da Agrobalati, che c'è di meglio di preparare una parmigiana con le nostre melanzane biologiche, le ultime delle macchie. Il tempo anche a favore, quindi abbeverando ancora le macchie, è facile che spuntino ancora altre melanzane. Quindi erano quasi finite, si stanno di nuovo rifiorendo e quindi è facile avere anche una posteria, si dice qua. Queste sono ovviamente le nostre melanzane, vengono tagliate a fette, io le metto anche in un grande piatto come quello, poi metto del sale, le sovrappongo con del sale. Diciamo ogni strato si mette una presa di sale, più o meno, ma non tantissima. Le lascio almeno un'oretta, poi c'è tutto quel sugo che esce, che va tolto. Io non le passo sotto l'acqua, perché quando le passiamo sotto l'acqua e poi le andiamo a friggere, ci friggiamo la faccia, le mani e tutto l'olio che schizza via. Quindi noi facciamo tutto senza acqua, il più possibile. Poi sono state fritte nell'olio bollente a 160 gradi, asciugate nella carta assorbente. Poi tanti strati, formaggio in nostro locale, mozzarella, un po' di caciocavallo, formaggio in nostro locale. Ovviamente un sugo anche un po' piccante, preparato nella nostra salsa biologica con un po' di aglio, un po' di cipolla. E poi tante stratificazioni con la mozzarella e siamo arrivati a questo punto. Adesso saranno i fornati a, diciamo anche a 180-190 gradi. Diciamo a 200 gradi, vanno pure bene, visto che il forno non è proprio super professionale, quello piccolo. Per, diciamo, 35, massimo 40 minuti. Diciamo 35 minuti vanno bene. Tempo che si forma la crosticina e siamo a posto. Poi vi faccio vedere come sono venute queste, questa parmigiana assolutamente di tipo biologica.